Decretato lo stato d'emergenza e il relativo piano d'aiuti per l'alluvionata Emilia Romagna, l'allargamento di sostegni governativi alla provincia di Pesaro Urbino è passato oggi per una decisiva giornata di sopralluoghi da parte degli incaricati della Protezione Civile Nazionale. Delegati che hanno visitato alcuni dei luoghi maggiormente danneggiati del territorio provinciale per stilare un report utile a dare corpo e concretezza allo stato d'emergenza nel nord delle Marche. Nel territorio comunale di Pesaro Protezione Civile Nazionale e delegati della Regione Marche sono stati accompagnati dall'assessore comunale Enzo Belloni e dal capo di gabinetto del sindaco Ricci Massimiliano Amadori in tre ore di sopralluoghi. Si è passati dalle frane collinari di Villabetti fra gli smottamenti di valle e le frane presistenti ulteriormente aggravatisi e poi i sopralluoghi su aziende danneggiate da allagamenti quali Cartfer e del PF e Scavolini in chiusa di Ginestreto, dalle strade interrotte fino al campo sportivo di Vismara completamente da rifare. Abbiamo mostrato le frane che abbiamo registrato, gli smottamenti, abbiamo visitato alcune aziende che hanno subito danni importanti, abbiamo mostrato quelli che sono i danni in alcune abitazioni privati che apparentemente sembra niente e poi dopo quando uno lo vede con i propri occhi che magari dimostra i video di quello che è successo la settimana scorsa raggiunge una nuova consapevolezza. Ci auguriamo che il report che uscirà da qui a questa sera rispetto alla situazione della nostra città porterà poi il governo domani a decidere per decretare lo stato di emergenza anche nella nostra provincia. Nel pomeriggio la protezione civile nazionale ha continuati sopralluoghi nell'entroterra provinciale per stilare una relazione finale che le amministrazioni stanno corredando con schede tecniche, immagini e video dei giorni d'allerta arancione. Gli uffici stanno preparando tutte le schede tecniche relativa anche a cifra presunta di quelli che possono essere i danni registrati con foto e video allegati perché sono quelli che poi ti danno l'idea, l'esatta percezione di quello che è successo. Devo dire che i problemi più grossi li abbiamo registrati rispetto ai fossi, il fiume Foglia ha tenuto perché sostanzialmente è stato fatto un bel lavoro quello rispetto alla pulizia degli argini anche se vi ricordo nei mesi scorsi aveva suscitato anche parecchie polemiche rispetto al taglio degli alberi però il fiume è tenuto, i fossi no, dovremmo rimboccare le maniche tutti quanti e iniziare a fare un lavoro serio sulla pulizia dei fossi.